Ah beh, io sono pronto, ho messo tutto Comunque ragazzi, non vi faccio il professionale perché è quello un po' più cattivo da fare E' ignorante, che comunque devi andare tu a accendere la luce Tutto, cioè devi cercare tu di gestirla il miglior possibile contro il fantasma Che comunque è abbastanza aggressivo e poi anche rompe leggermente le scatole Però, ora vediamo, vediamo, vediamo Vediamo un po', ci organizziamo insomma 90%, però guarda come dura, secondo me hanno fatto un po' di patch, aggiornamenti E boh, ok Sei caricato un po' più tranquillamente, ah ok Sono io che devo salire sopra, sì sono io che devo salire sopra Beata al mio amico che sta giù Stando proprio che arriva, se non mi appare un fantasma a tradimento Comunque hanno migliorato i pixel qua Ah, eccoti qua Oh, eccoti qua Cioè aspetta, tre vorresti dire, perché c'è anche a scatto una foto al fantasma Vabbè però usare l'incenso mentre il fantasma dà la caccia è fantastica Ha un giocatore, attenzione Certo, mi piace, quello poi lo apprezzo a uno, tu devi vedere l'incenso Eh, ma che c... Cioè, tu è un modo per parsi il culo, perché se il fantasma va a caccia e segue a uno Poi cambia tra l'ariettore, quello tiene l'incenso, il fantasma dice Ah, che c'è, andiamo da quello di prima, no? Ah, il generatore sta bene, sta giù, ok, ora c'è Eh sì, ora so cazzo tua però, eh Eh sì, per quello è sotto il caldo, ovviamente È vero, è qua dove lo potevi mettere, in garage e basta Eh no, troppo semplice Eh, ho in garage e sotto il caldo Eh, ricordiamoci che stiamo facendo a livello professionale Che siamo Che poi queste strade, mi sono sempre piaciute, questi rotatori così In Canada ci sono tantissime così Non ti sento Ah beh sì, sì ci sta, ci sta Comunque sta sopra, eh, sappilo Oh fantasma, tua mamma è puttana Via Però però ha picciato di qualche luce però, eh Eh, non si sa E mica l'ho provocato, che ne so, può essere pure un orfano Può essere un figlio unico Sì sì, ma io ho detto, ho sentito un rumore sopra da me, ho sentito, te l'ho detto Sì, era dentro, vicino a una porta o vicino a un armadietto Eh, ma è sempre del bagno un po' po', che è quattro stanze? Eh, quattro stanze Sì, tre, eh, quattro stanze È quattro stanze anche quell'altro, capito, eh Ok, andiamo Io ho preso un altro senso in movimento No, ma a me piace queste cose Non è per la cosa U È perché praticamente si conoscono tutti affiancati Se succede qualcosa, un ladro non può entrare in nessuna di queste case Succede una cosa, un ladro non può entrare in nessuna di queste case Azzo nove Eh, aspetta però Siamo sicuri che è solo là però Ah, un osso, chi l'aveva visto? Per il momento Il più vicino è là, bro Quello che sta a nove è qua Ok Però aspetta, non lanciare, non fare nulla Era qua No, prendi il crocif- Vabbè, aspetta Il crocifizio ce l'ho No, lo so, lo so Però io sto guardando un po' le temperature, capi? E la temperatura mi sta trollando, capi? Vabbè, là ci abbiamo messo Non si sta là Faccio così Per il momento ritorniamo un'altra indietro Che secondo me mi sta prendendo in giro Perché non è più qua Ah, sei qua, ok Vuoi fare un giro qua almeno Sì, perché devo rimanere ferma Per vedere se passa drasticamente a temperatura Se no No, comunque a temperatura è sopra So che devo capire quale stanza Però andiamo un attimo via Sì, ok Vabbè, nella cucina c'eravamo noi Sai che Sai che Dobbiamo prendere gli altri due E uno metterlo in bagno E uno nella stanza del bambino Sì, perché è sopra Esatto Prendiamo gli altri due qua Uno E il crocifisso Mettelo però nel corridoio Fidati Un crocifisso Buttato nel corridoio Comunque Ok Ah Secondo me Come stanza Ah? Le stanze in fondo Al lato opposto del bagno Eh Ci stanno con le stanze Sì Eh ma ora ripassiamo a ricontrollare quel termometro lì E' giusto per fare un giro Solo per fare un giro al volo Mettiamo i sensori in movimento E vediamo cosa succede Ecco La casa può essere pure tra virgolette piccola Ma ti stanno a rompere già le scatole No, metto io qua Ok Io non lo metto Mettelo qui dentro Alla stanza del bambino E' bella bambina Maronna Mi so cagato Sei apparso dal nulla Sei apparso Mamma mia Che ansia Sì Qua dentro Qua dentro Sì Ok Voglio in atto di provare Tutto il tentativo Per vedere se sta qua Forse Però sta Mo sta a 14 No niente Mo aspettiamo Che vediamo dove cacchio sta Perché è allucinante Ma doma Hai fatto uno jumpscare Che tu non hai idea Perché mo dice che stanno in upstairs Mo di nuovo in bagno Però perché fa rumore Il problema è che devo capire Se passa Capito Vabbè intanto Droghiamoci un attimo Perché secondo me Qua ci romperà un po' le scate Questo qua Eh No 73 Eh ma L'ho fatto Sai perché Perché voglio fare Una perlustazione Un po' più allungata Capito E Mag Magari Porto una videocamera Capito Mi aiuti un attimo Perché Guarda Nessun movimento Questa è un'ombra Comunque bro Sì Probabile Molto probabile Portami la videocamera E prenditi L'FM Ok No Prima prenditi L'FM E poi prenditi La videocamera E Me la lasci Nelle scale E riscendi Così ti prendi Magari un'altra cosa O lì Qualcosa Ok Eh troviamolo No 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 Perché io me lo so Fatto più alto La temperatura apposta Non sono fissato apposta Inizia la scena E fai quello che vuoi Che Perché adesso Non è più qua 22 gradi 17 gradi No bro Questo sta giù Vieni Aspetta Ho un'idea Vieni Questo ci sta prendendo In giro 5 5 7 Eh 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 Volei fare il furbacchione Eh sì Aspetta il generatore Aspetta il generatore Bro aspetta il generatore Allora sta là sotto Allora sta là sotto Portiamo libero Allora riprenditi il crocifisso Quello che sta sopra Non quello Vabbè si come vuoi Eh Perché lo portiamo giù Facciamo un po' di giri Ok Ok Sì sì Vado a prendere un po' di cose Qua Ok Si ok Però Dove sei? Vai sopra e prendi l'altro crocifisso È un senso di movimento Sì Ok Ha fatto danni qui dentro comunque Ha fatto danni comunque dentro la stanza Ok Ultimo giro Dove sei bro? Vabbè vieni qui Vieni qui Non fa niente È un'ombra Sicuramente al 100% Un'ombra Seconda messa Nella stanza 10 mila Sì No ma anche una videocamera Io per questo Allora Prenditi il libro Dobbiamo fare Nessun senso il movimento Che tanto sappiamo che sta là Quindi è inutile che Mi serve videocamera Un'altra E poi mi servirebbe Che cos'è? Macchia fotografica al volo Non si sa mai Tu hai preso Cosa hai preso tu? Libro Libro E Oddio Oddio Quanto è veloce Ha scritto pure Quanto ha scritto Quanto ha scritto Oh è passata ha scritto È la madonna Signorini Signori allora prendi il coso per parlare e niente a me serve soltanto per le orb e dove è all'interno guarda come sta lì bello sputato ok sappiamo dove si trova come punti meno male è dove passa per forza da lì quindi tutto a posto ci sta passando a fianco praticamente ecco mi arrivo e ora controlliamo e aspetta devo chiudere la porta qui sopra ho chiuso no è qui bro è qui no no è qui davanti a te bro è cinque posa qui andiamo mettono lì sopra dove vuoi andiamo eh sì ci voleva ingannare prima capirò orb a posto abbiamo tutto sì le sfere stanno dentro lo stanzino ok ombra che cos'è? ombra è un'ombra ma te l'ho detto subito te l'ho detto subito però dovremmo fare meno l'incenso la foto purificare sì però dobbiamo triggerarlo facciamo così proviamo a drogarci e lo triggeriamo per fare la foto se no l'incenso allora aspetta io ne prendo uno io ne prendo uno io ne prendo uno così così se appare almeno gli faccia la foto capito? perché magari da solo puttaneva poi ho qua uno qui e un altro dall'altra parte qua perfetto tu vai sopra e vedo di sì chiudi la porta dove sei? dacci un segno mostrati mostrati non mi fa cagare sotto dove sei? mi sto cagando sotto dove sei? vieni immediatamente bro ti picchio oh non è proprio passato per di qua oltretutto ti voleva chiudere la porta sì dove sei? vaffanculo sei stato tu faccio il segno madonna sei qua vuole apparire da solo cioè sta qui vuole apparire per forza ok ok è un po' scocciato sta ombra è scocciata dai usa l'incenza possiamo andare dai pazienza sì no quella è schimma non ci sta hai visto stava solo qua casino però non è che non è che ci va ok vabbè pazienza andiamo dai abbiamo fatto tutto pazzo pochissimo pochissimo eh vabbè pazienza eh ma l'ombra è fastidiosa come entità pochissimo l'ombra è Grazie.